Dopo l'arrivo di Faramarna, la Nissa mette a segno altri due colpi di mercato in questa sessione invernale. Ritorna in bianco scudato il centrocambista Ivan Lavardera, dopo due stagioni proveniente dall'Enna, con spiccate doti offensivi e il vizio del gol. Ad alzare il livello della rosa di Alessio Sferrazza, ecco anche il promettente esterno napoletano Antonio Esposito, proveniente dal Nibiano, squadra di eccellenza emiliana. La prima cosa è che sono contentissimo di essere qua, mi ha spinto il progetto parlando con il direttore, quindi sono carico e pronto ad iniziare. Andiamo in campo ogni partita per vincere, l'obiettivo è quello di arrivare al playoff e penso sia pure l'obiettivo della società e della squadra. È sempre bello tornare qui a Caltanissetta, anche se sono stato per poco tempo, circa due anni fa, non ho dimenticato l'importanza di questa maglia. e sono sicuro che faremo bene fino a fine anno.